Bene, buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto alla seconda sessione della seconda giornata del Festival della Comunicazione del 2017. Incominciamo questo pomeriggio di interessanti incontri, ed è per me un piacere, con il professor Paolo Fabri. Consentitemi solo due parole di presentazione, al di là dei titoli che potete facilmente già conoscere o leggere sul sito del nostro Festival, mi piace presentare Paolo Fabri come un professore, un vero professore perché anche nei brevissimi incontri che abbiamo avuto adesso in albergo non ha perso l'occasione di offrirci delle pillole, delle lezioni mignon di semiotica, di comunicazione applicate alla vita di tutti i giorni. Questo incontro è una di queste pillole, un po' più estesa, che tratterà di un argomento sicuramente molto originale e molto interessante, che è appunto quello dei tatuaggi. Cedo la parola al professor Fabri e auguro a voi un buon ascolto. Grazie. Grazie. Io, parlando di tatuaggi che sono delle immagini, bisognerebbe facessi vedere qualche immagine. Là in fondo c'è una luce solare bellissima che, se si potesse spegnere, farebbe la felicità sicuramente di quanti vedranno dei tatuaggi curiosi. Grazie. Sì, eccolo, benissimo, benissimo, benissimo. Grazie. Allora, dunque, immagino che siate stati al mare, spero di sì, e vi siate accorti di quello che io chiamo la invasione dei grafocorpi. I grafocorpi sono i corpi scritti che avete visto al mare oggi, cioè avete visto delle persone con delle immagini e delle scritte direttamente sul corpo, non solo sulle magliette, ma sul corpo. Questo ci pone un problema molto interessante che è la relazione oggi tra il corpo, il nudo ma anche, l'immagine e la scritta. Temi molto importanti oggi il corpo e l'immagine, come voi sapete molto bene. Ora io vorrei che voi pensaste che tutte queste cose che vediamo scritte, di cui ignoriamo spesso il significato, siano come le specie di ideogrammi o di geroglifici contemporanei che ci tocca leggere o capire. Allora, qual è il problema dei semiologi rispetto alla gente che fa comunicazione e informazione? Chi fa informazione, e questo è molto importante sulla questione delle connessioni, chi fa informazione e dà significati fa quello che noi chiamiamo esegesi. L'esegesi, sapete, ha come radice la parola egemonia, cioè tenta di dare un senso. Noi invece dovremmo in teoria, almeno ritengo, fare un po' di interpretazione, tentare delle interpretazioni. Vediamo se riusciamo oggi a fare un po' di interpretazione di questi ideogrammi contemporanei, di questi geroglifici contemporanei. Allora, il semiologo li tratta come dei segni, segni che hanno quindi un significante e che abbiano un significato, e questa è una banalità. Allora io vorrei chiedervi un piacere di evitare di chiamarli post qualcosa, il post corpo, il post immagine, il post moderno, il post politico, il post verità e così via. Perché non risolvete niente dicendo post? Perché o volete dire che viene dopo, e in questo caso non vengono per niente dopo, sono adesso, ecco. Oppure se no di che cosa vengono dopo? Oppure voi pensate che post vuol dire un'altra cosa, come voleva il grande teorico Lyotard diceva, post è quella cosa che ci consente di tornare indietro e di ripensare i fondamenti del funzionamento. Quindi post non vuol dire dopo, vuol dire tornare a prima e cercare di capire. In questo caso chiamiamoli post, siamo nel mondo delle post immagini. Allora, l'altra soluzione di non chiamarli, come fanno i miei amici semiologi, segni tegumentari, che vuol dire semplicemente che ha sulla pelle e questo non risolve il problema. Se volete chiamarli dermatoglifici va benissimo, non c'è problema, ma non è che ci porta molto lontano. Allora, l'altra idea è guardiamo e cerchiamo di capire di che si tratta. Allora lasciatemi fare una citazione, io non faccio mai citazioni filosofiche, non è il mio mestiere, ma canto una volta parlava dell'occhio innocente, guardiamoli con un occhio innocente. Kant diceva l'occhio innocente è cieco. Guardiamoli con la mente vergine, risposta di Kant, la mente vergine è vuota. Quindi cerchiamo di capire cos'è e cerchiamo di capire confrontandoli, cercando di metterli in relazione uno con l'altro e con altri tipi di immagine. Ecco qua. E' questo. Quindi ci dobbiamo porre il problema del loro senso e il problema della loro forza. Guardate che porsi il problema della forza nel caso non è una banalità, perché chi si fa scrivere sul corpo non solo paga, ma soffre. Può darsi che gli piaccia anche soffrire, però soffre. Quindi quest'idea di mettersi sul corpo direttamente qualcosa non è esattamente come farsi una fotografia e su questo tenteremo di parlarne. C'è un'altra soluzione. La soluzione di dire che è una moda. Capito? E una volta che avete detto la moda cosa avete capito? Avete capito primo, che è virale, cioè che se la gente si copia l'un l'altro, bella scoperta. Secondo, che ci deve essere una ragione per cui però questa viralità funziona. Cioè non è che funziona per il semplice fatto che io ti copio. Io ti copio perché va di moda. E quindi se va di moda è per questo che ti copio. Allora il problema della moda non risolve questo problema. Tanto più che è più ovvio che è un funzionamento normale della moda. Voi sapete cosa fa la moda. Guarda la società, guarda i margini del sociale, prende i margini dei sociali, li porta in mezzo e li trasforma in centro della riflessione. Cioè c'è la pornografia, c'è il vestito pornografico, bene lo prendiamo e lo mettiamo al centro e d'ora in poi diventa una componente della moda. Cioè tutto il marginale viene rimesso al centro e quando viene rimesso al centro diventa un problema di moda. Sì ho capito. Però questo è davvero una moda? Io me lo domando e ho qualche dubbio che vorrei condividere con voi, ma molto rapidamente. Cosa c'è nella moda? Ci sono un gruppo di persone molto autorizzate, l'alta moda che decide cosa va quest'anno. Nel caso dei tatuaggi non è affatto andata così. La gente non ha atteso che ci fosse qualcuno che diceva il tatuaggio quest'anno andrà di moda. È la moda che ha ripreso la moda del tatuaggio. Questo è interessante perché vuol dire che noi ormai parliamo di moda parlando di vestiti e parlando di alta moda. Dobbiamo smetterla, dobbiamo capire che le mode esistono nel sociale. Come se esistono? Ma esistono in una maniera diversa. Esistono con l'idea, per esempio, prendete i nomi. Dare i nomi alla gente va di moda. C'è un periodo che tutti si chiamavano Antonio, Paolo e Maria. Oggi a un certo punto la gente ha cominciato a chiamarsi per esempio Cinzia o Deborah o roba del genere. Sono mode, ma non c'è nessun capomoda, nessuno stilista che decide come ci si copiano i nomi. Ecco, così è il tatuaggio. Il tatuaggio è nato come una cosa molto selvaggia. Certo che ci sono delle ragioni di cui parleremo, ma è in qualche modo una moda allo stato nudo. Non è la moda come noi intendiamo la moda. Il tatuaggio ci aiuta a ripensare la moda. Non è la moda che è la spiegazione del tatuaggio. Va bene. Adesso però potremmo anche dire che il tatuaggio è un soprannome. È la moda di darsi un nome come soprannome. Perché no? Adesso però poniamoci qualche problema perché non varrebbe la pena che un semiologo si mettesse a interessarsi ai tatuaggi se non sollevassero almeno qualche problema di significato. Ve ne do tre soltanto che forse possono essere utili. Primo, tutti dicono che siamo nella società liquida. È un slogan di una profonda sciocchezza per la semplice ragione che si possono trovare tanti esempi contro esempi. Volete un contro esempio? Il tatuaggio. In una società liquida gli uomini, sì, e le donne, si disegnano sul corpo, che cosa? Qualcosa di indelebile, alla faccia del liquido. Allora, primo problema, come mai in una società detta liquida la gente si scrive l'indelebile? Risposta, proprio perché liquida. Sì, ho capito, certo, però la gente si scrive l'indelebile e questo non è un gesto liquido. Bene. Secondo problema, tutti si fanno dei selfie, siamo nel mondo dei selfie. Perché per rappresentarci ci somigliamo a noi stessi, ci facciamo sorprendentemente vedere così come siamo. Cioè la rappresentazione sarebbe l'estremo esempio della rappresentazione, no? Quando una cosa ti rappresenta ti somiglia moltissimo. E il tatuaggio? Ma davvero i tatuaggi vi somigliano? No. Allora, questo è interessante. Significa che oggi il problema di rappresentarsi non è più il problema della somiglianza e che il selfie non è sufficiente per la rappresentazione, come ci raccontano tutti i giorni. È il contrario, è che non è più sufficiente la somiglianza e la fotografia per rappresentarci. La prova è che ci rappresentiamo in moltissimi modi e tra questi moltissimi modi sono i modi più astratti, i più singolari. Ne vedremo, spero. Un ultimo punto. Siamo la società dell'immagine. Ok, ho capito. Siamo la società dell'immagine. Ma quante immagini ci sono? Ci sono le immagini scientifiche, evidentemente. Ci sono le immagini di supereroi, ci sono le immagini di Topolino, ci sono tutte le immagini che volete. Come si fa a capire quelle che contano e quelle che non contano? Analisi sociologiche. Volete farle? Guardate il tatuaggio. Perché? Perché il tatuaggio è quell'immagine che è resa così importante che uno se la scrive addosso. Quindi per capire cosa conta delle immagini è meglio guardare quelle che ci iscriviamo a nostre spese e con mostro dolore su di noi. Allora abbiamo tre soluzioni. Il primo, problema dell'indeleabilità in una società detta liquida. Secondo, crisi della rassomiglianza e necessità di rappresentarsi con delle forme che non sono i selfie. Terzo, il problema delle immagini che quelle che contano ce le mettiamo addosso e le altre no. E quelle contano. Allora vediamo che cosa succede se riusciamo a dare qualche risposta ragionevole. Però secondo me qualche problema il tatuaggio ce l'oppone. Allora, qual è il problema oggi? Allora vi dico in 30 secondi. Nel 2015 l'Istituto Superiore della Sanità si è accorta che i tatuaggi sono pericolosi perché fanno circolare infezioni e le patite e hanno deciso di capire quali sono, quante persone si tatuano? Guardate che sono di due anni fa ma cambia tutto. Due anni fa, nel 15, ma era roba fatta nel 14, le persone tatuate in Italia erano 12 qualcosa per cento uomini, 13 qualcosa per cento donne. Uguale. Interessante perché il trucco non è la stessa cosa. Primo. Secondo, che età? E lì vi sorprenderà. La maggior parte dei tatuati erano persone tra i 35 e i 45 anni. La gente che si fa tatuare non sono i ragazzini. Direte che è una banalità. Sì, ma è molto interessante che ci sia una generazione che si tatua più delle altre. Perché? Vabbè, voi lo sapete benissimo. C'è gli hippie e tutti quelli che sono venuti volevano il nudo pulito. Poi sono arrivati i gay che hanno cominciato con le scarificazioni. Poi sono arrivati i punk che hanno cominciato a bucarsi, a fare il piercing. Insomma, sul corpo la gente lavora da tempo. Domanda sul corpo. Ma che corpo? Ma quale corpo? È la pelle. Allora, un'altra cosa. Oggi tutti parlano del corpo. Nessuno fa delle distinzioni serie tra il corpo in generale. C'è tutto un discorso sul corpo filosofico, ma credo che siano stipendiati da quelli che fanno la chirurgia plastica, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna spiegazione. Pensate alla pelle. Perché è importante per noi, perché parliamo di connessioni. Qual è il grande connettore del corpo nostro al mondo? È la pelle. La pelle è l'organo di senso più esteso di tutto il corpo. Prima. Secondo, contiene il corpo, dunque ha un contenuto, ma allo stesso tempo si esprime verso l'esterno, quindi c'ha un significante. C'ha un contenente che si presta a essere significante, non solo. Ma sapete bene che la pelle sente il colore, il calore, scusatemi, sente la pressione e quindi evidentemente ne ha molte. Perché? Perché la pelle non è soltanto un contenente rispetto a un contenuto, ma è anche un posto che viene attraversato da qualcosa, i pori, il sudore, ma nel caso particolare l'inchiostro. L'inchiostro è uno delle cose che attraverso il tatuaggio fa sì che la pelle, che penetra dentro il corpo, a diversi livelli di profondità, naturalmente, e questo è il derma, come viene detto, ma la parte esterna, il significante, quello che sopporta le rappresentazioni, fa sì che la pelle è uno dei posti dove noi possiamo creare il massimo di rappresentazioni possibili. Quello che ci interessa oggi è la pelle, non solo. Ma voi sapete che la pelle, del viso, quella delle mani è un po' particolare, ma del corpo in generale è anche un modo di comunicazione. Noi comunichiamo all'altro attraverso la pelle. Volete un esempio? Il colore. Non parlo dei neri, dei rossi, dei gialli. Dico solo, in India attualmente c'è un miliardo di persone dove la più grande industria indiana in questo momento è l'industria cosmetica, in cui le donne tentano di schiarirsi le pelle in tutti i modi possibili, iniezioni, pillole, mercurio, abrasioni. Allora, la pelle è un problema serio, come si dice c'è di che lasciarci la pelle, eh? Naturalmente. Ancora, un altro punto che mi sembra importante. La pelle è quindi uno dei luoghi privilegiati di quello che Foucault chiamava gli afrodisia, cioè i piaceri e i dolori. Sapendo benissimo che piacere e dolore sono reversibili, tutte le persone che si sono fatte tatuare intervistate dicono sì, sì, mi ha fatto male, ma dopo stavo così bene. Ci credo. Hanno speso una tale quantità di soldi e di tempo che mancasse pure che dicessero che non gli ha fatto bene. Allora, vorrei farvi un'osservazione banale. Non voglio parlare delle chirurgie plastiche, dice tutta una letteratura. Volevo darvi un'idea di che cosa viene fatto oggi con la pelle. Piercing, scarificazione, cutting, ice kiss, che sono bruciature, naturalmente, burning e così via. Cioè c'è tutta un'attività nuova, straordinaria, in cui la nostra cultura si mette, per così dire, una serie di segni di diverso tipo e significato sulla pelle. Allora, non solo, e questo è interessante la pelle, ma esiste una topica corporale. Dico una banalità, in realtà con una parola maestosa. Guardate che chiunque sa cos'è un tatuaggio si riconosce benissimo quello che ha sopportato più o meno dolore. Ci sono dei luoghi del corpo che non sono doloristi, specie se c'è un po' di adipe, e ci sono dei parti del corpo che fanno un dolore terribile. Prendete il collo e pensate al cantante Fedez. Sapete benissimo che il collo è uno dei posti che fa più male insieme alla parte sopra il pube e al sesso maschile e femminile, che vengono tatuati in abbondanza. Quindi questo vuol dire che comunque sia, quando vediamo un tatuato, i tatuati fra di loro sanno benissimo che hanno dei corpi sensibili diversi e che hanno sfidato i loro stessi e il loro corpo tatuandosi in posti diversi. Cioè c'è una geografia del piacere, del dolore del corpo descritto dai tatuaggi. Questo lo so che è una banalità, però credo che valga la pena di essere, di insistere. Allora, il corpo dunque è un testo su cui c'è una scrittura verbovisiva. Adesso cominciamo a guardarne un po', perché noi abbiamo l'idea sempre che una volta che abbiamo spiegato l'esperienza della gente, abbiamo spiegato tutto. Quando abbiamo spiegato chi sono, e ne parleremo subito dopo, i tatuatori che vogliono diventare degli artisti, sapete che oggi c'è una artificazione del tatuaggio, ne parleremo alla fine. Ma nel frattempo abbiamo un problema, che cosa si tatua la gente sul corpo? Cioè, tra l'infinità delle immagini che corrono alla società dell'immagine, quali sono e cosa sono quelle che la gente si iscrive sul corpo. Guardate che voi direte, ma non è importante. Ci sono alcune persone che hanno tentato di farlo e hanno tentato la via, che per un semiologo è più stupida, la via lessicale. Hanno cominciato a dire ancora, hanno visto che c'è il cuore, ha visto che ci sono le ali, c'è una quantità di ali incredibili, e così via, e così via. Non ne sono venuti a capo, era meglio se prendevano il dizionario e cercavano sul dizionario. Allora, che cosa invece bisogna fare? Bisogna accordare in qualche modo e mettersi d'accordo con quelli che i tatuaggi li fanno e quelli che li ricevono e sanno che stanno per entrare in un genere. Cioè i tatuaggi sono divisi per generi esattamente come la letteratura è divisa per generi e come la pittura è divisa per generi. C'è la pittura di paesaggio, c'è il ritratto, dico bene? C'è la battaglia, sono i pittori battaglisti. Anche i tatuaggi sono divisi per generi. Voi direte, ma sono molto coerenti? No. Sono nati selvaggiamente. Come è nata la letteratura? Come il cinema? Un cinema horror è definito dalle passioni che suscita, ma un cinema western non ha niente a che vedere. È perché si svolge nel mondo western. Un cinema giallo è perché c'è un certo tipo di narratività, tra luogo, narratività, eccetera. C'è una differenza enorme. Noi però non ci preoccupiamo molto dell'omogeneità del genere, escluso i teorici della letteratura, ma quello che ci preoccupa in questo caso è che tipo di generi ci sono. Allora io vorrei con voi tentare di buttare giù alcuni di questi generi. E volevo farvene vedere qualcuno. Mi dispiace, le condizioni non sono vantaggiose, ma la pazienza spero. Avevo deciso di farvi vedere all'inizio, perché mi serve, quello che viene chiamata oggi arte del tatuaggio, che però si chiama in realtà body art. E vedrete che si tratta di un fenomeno particolarmente estremo sulle quali mi interessa intervenire. Non è questo, eh? È art. Mi scusi, eh? Art, tattoo art, sì. Body art, body art. Art tattoo, art tattoo, va benissimo. Con quella, con quella. Nell'ordine, nell'ordine. No, non è questo. Va bene, va bene. Cominciamo da questo, via, non fa nulla. Non è grave, abbiamo dei piccoli problemi. Non fa nulla. Ecco, in questo caso voi avete degli artisti, andate avanti mentre io parlo, va benissimo. Ecco qua. Questo è la rivista Garage, la quale ha chiesto a molti artisti di fare dei tatuaggi. Cioè, gli artisti disegnano, e sono i più celebri. Ed Adam and Hearst che conoscete, Baldessarri e tanti altri, e gli hanno chiesto, vado avanti, di fare dei tatuaggi. Non si vedono? Poco male? Vado ancora? Ecco, questa è una nota modella inglese che sostiene che Lucien Freud le ha fatto un tatuaggio. Lei si domanda a chi lo lascerà di eredità, ma questo sarà un problema che svolgeremo dopo. Ancora? Eccola qua, sempre lei, l'avete riconosciuta, spero. La più grande modella inglese? Ancora? Certo. Ancora delle scritte, delle mani, ancora se possibile. Eccolo qua. Ancora? 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 Ecco. Bene. Allora, qui abbiamo un esempio di come il tatuaggio può essere utilizzato come arte, ma su questo torneremo più tardi. Adesso mi piacerebbe che cominciassimo da Old School, che è uno dei più antichi modi di rappresentazione del tatuaggio. Era il primo, eh? No, non è questo. Allora, torniamo indietro. Old School, il primo che abbiamo. Old School, sì. Eccolo qua. ci siamo. Ecco, allora. L'Old School è una scuola di tatuaggio in cui il tatuaggio si riferisce ai vecchi tatuaggi da marinai, che erano l'origine molto spesso del tatuaggio contemporaneo, e li rivisita in maniera originale. Andiamo avanti, è sempre tutto l'Old School. Eccoli qua. Ancora? Vado avanti pure? Sì, sì, avanti. Ecco qua. Ancora? Ancora? Se c'è. Stop. Adesso passiamo a New School. Volevo ricordarvi da Old School, perché è importante, perché una volta il tatuaggio, quando era marginale, veniva usato generalmente da marinai, veniva usato da forzati, veniva usato da gastolani, cioè persone che stavano in istituzioni totali. Non è un caso se il primo collezionista di tatuaggio è stato da noi l'antropologia criminale. Lombroso. Se andate al Museo Lombroso a Torino, troverete non solo una grande quantità di tatuaggi ridisegnati, ma addirittura anche pelli di tatuaggio, di tatuati, persone che sono state esecuzioni capitali, gli hanno staccato la pelle e sono attualmente esposti. Ci torneremo. Ecco invece la New School, che si riferisce alla prima, ma usa in maniera ricca e veramente straordinaria, quello che si chiama il colore che è arrivato nuovo. Guardate. Ancora? Il New School è molto religioso, per ragioni che un giorno capiremo. Ecco qua, per esempio, angeli. Ecco, qualcuno ha deciso anche che c'era la doppia elica che poteva essere vantaggiosamente rappresentata. Ecco, come vedete, la tecnica in questo caso che si è aggiunta è che il colore permette l'ombra e quindi c'è un trionfo, un vero e proprio trionfo del trompe l'oeil di recente nei tatuaggi. Adesso veniamo ad un altro tipo di tatuaggi, che è quello che si chiama il tribalista. Beh, questa è la rovescia, ma pazienza. Andiamo avanti, sì. Eccolo qua. Allora, si tratta, ho messo soltanto due esempi di tribale che sono i maori e soprattutto i giapponesi. Oggi molti tatuaggi si ispirano alla tradizione giapponese che è molto antica, celeberima quella del Settecento, il mondo fluttuante di Edu, eccetera, e i maori. Oggi se andate nel paese maori, per esempio in Polinesia, troverete subito all'ingresso dell'albergo qualcuno che si offre di farvi un tatuaggio. Cioè il tatuaggio è diventato tourist art, che è un'arte particolare, arte per turisti naturalmente. Vai avanti un secondo. Questo invece, questo signore robusto, come vedete, ha deciso di farsi un tatuaggio maori. Chi gliel'ha fatto? Gliel'ha fatto un vero tatuatore maori. Ma cosa è successo? È successo che siccome hanno capito quali sono i gusti occidentali dei turisti, hanno riscritto la tradizione del tatuaggio in maniera verosimile per il turista. Il che significa che si chiama invenzione della tradizione. Oggi gli antropologi vanno disperatamente a cercare gli ultimi tatuati originali, primitivi, ma non li trovano più. Per la semplice ragione, ed è ovvio d'altra parte, che in questo mondo i tatuatori hanno riassorbito i gusti tatuatori, che sono quelli di old school, new school e così via. Andiamo avanti. Questo forse lo riconoscete, è un grande calciatore, non dico chi è. Vabbè, Ronaldo, via. Questo è uno dei maggiori esportatori di cultura di tatuaggio. Partecipava a un convegno, a una mostra all'inizio degli anni Ottanta sul tatuaggio, a cui partecipavamo anche io e Bonito Liva, ma è stato tanto tempo fa, e come dice quell'altro, The Girl is Dead. Andiamo avanti. Ecco, un signor, come vedete, qui siamo già all'artificazione, perché i tatuatori si firmano. E vedrete che questo è importante nel momento in cui dovremo dire che c'è una artificazione. Ancora? Ancora? Importanti i tatuaggi a coppia, perché molto spesso non coprite un tatuaggio se non sapete che c'è un'altra persona dall'altra parte che ha il resto del tatuaggio. e le coppie si tatuano un'immagine di Risa. Ancora? Mica male, è vero? Sì. Allora. Allora ancora? Ancora. Questi sono i giapponesi. Andiamo avanti rapidamente. Ancora? Ancora. Mi pare che siano gli ultimi. Bene. Adesso vediamo due cose che spero vi spaventino sufficientemente. Ed è quello che viene chiamato il realista, con una piccola sottodefinizione che è il biomeccanico. Guardiamo il realista intanto. realista. Realista. Eccolo. Vedete? Colto, naturalmente. Guardate che c'è, ci sono tatuaggi dell'ultima cena di Leonardo. Cioè c'è di tutto, naturalmente. Andiamo avanti senza difficoltà. Ecco qua. Ancora. 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 Sì. Fino alla fine. Adesso biomeccanico. Questo è un caso molto interessante per noi, perché sulla pelle viene disegnato una effrazione della pelle, sotto cui si rivela che non ci sono solo gli organi, ma c'è una macchina. Cioè come realizzazione di quello che viene chiamato l'uomo, il ciber-uomo, non è male, è già scritto sul nostro corpo. Ecco qua, come vedete, qui abbiamo già l'apertura. Ancora. Ecco, questo è un signore che ha avuto l'ablazione del cuore. Pare che c'è una signora che glielo ha strappato. Ancora. Ancora. Ecco, ci sono delle scritte sotto la pelle. Ancora. Ancora. Sì. Qui, vedete, comincia già a vedersi il meccanismo che sta sotto la pelle. Ancora. Questo mica male. Ancora. Ancora. Questo è abbastanza sottile, diciamo la verità. Ancora. Mi pare che sia l'ultimo. C'è un altro? Credo che sia l'ultimo, vero? Ecco, ecco, questo è più importante. Perché il cuore, che invece è tutto un insieme di rotelle, naturalmente. Come diceva il poeta, scordato strumento cuore. Bene. In realtà ce ne sono moltissimi. Io non voglio insistere su questo, perché sarebbe veramente una unità. Adesso volevo dire l'ultima cosa che ci sarà necessaria a dire, che è il problema di come mai oggi il tatuaggio chiede di essere artificato. Cosa succede al tatuaggio? Succede quello che, per esempio, è successo alla street art, che, come sapete, disegna su una particolare pelle, che è la pelle degli edifici. Cos'era la street art all'inizio? Ve lo ricordate molto bene. Era criminosa. Cioè, uno che disegnava su un muro veniva punito. Oggi uno che disegna su un muro dice che è un artista. Ma questo è successo col cinema. È successo con la fotografia. È successo con la danza hip-hop, che oggi è considerata arte. Cioè, c'è un movimento generalizzato nella nostra cultura, un movimento generalizzato che va verso l'arte, l'artificazione. Come si fa a fare artificazione? È molto semplice. Allora, gallerie, mostre, collezionisti, musei, recensioni. Cioè, con un progresso di questo tipo di fenomeni, alcune cose diventano artisti. Due anni fa a Parigi hanno fatto un'immensa mostra che ha avuto 200.000 visitatori. Siamo sicuri, sta diventando arte. Allora, io vorrei tornare adesso davvero all'arte, art, come avevamo visto all'inizio, e con quello tentavo di concludere. Volevo darvi questo esempio. Avete visto il primo esempio molto... Artatuasi. L'esempio è molto divertente perché l'avete visto prima. Andiamo avanti rapidamente e arriviamo a quelli che stanno per... Questi li abbiamo visti. Qui il tatuaggio è sul sesso della donna. Andiamo avanti. Hanno chiesto alla signorina cosa che esperienza le dava avere un tatuaggio sul sesso, che fa anche piuttosto male. Lei ha risposto che sarebbe stata molto contenta che suo figlio passasse da lì. Non so cosa passa da lì di solito, ma insomma diciamo che riteneva che ci fosse un interesse a passare da quelle parti. Andiamo ancora. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora. Ancora. Ancora, ancora, su. Ancora. Ecco, via. Via. L'abbiamo già visto. Adesso c'è una cosa molto interessante. C'è un artista che si chiama Vim Delvoi, che adesso vedrete. Ancora. Cerchi Vim Delvoi, allora, se c'è. Mi pare che ci sia. Vim con la W. Qui abbiamo gli artisti che diventano tatuatori. Eccolo qua. Vim Delvoi sta tatuando un suo amico. Vado avanti che mi piace. In realtà lui prima ha tatuato una quantità di maiali. Vado avanti per far vedere se ce ne sono degli altri. Ecco, i maiali sono stati sedati prima, eh. Intendiamoci. Eccoli qua. Ancora. Ecco. Questo è il suo amico che è stato tatuato. Ora, cosa fa Vim Delvoi? prende i maiali e li fa allevare in Cina. E ci sono dei contadini che allevano i maiali. Lui sostiene che questi sono i curator dell'opera d'arte. E quindi già trovo che un contadino cinese che diventa curator già mi sembra abbastanza interessante. Quando muoiono i maiali, di morte naturale, vengono mangiati e la pelle viene esposta e venduta a prezzi molto elevati. Ma cosa succede quando c'è una persona che è stata tatuata? E che è visibile? Ecco, questo è l'amico di Delvoi, il quale si espone come opera d'arte. Cioè lui va di solito dentro un museo, si espone, sta lì per tutta la giornata come un quadro, poi torna a casa, mangia e va in giro. Come vedete abbiamo delle modi molto originali e molto nuovi di trattare la relazione. Bene. Conclusione. Sarò rapidissimo. Allora. Perché? Perché fa tutto questo la gente? Allora, prima domanda. Per piacere, non rispondete perché prima di sapere cosa? Il semiologo si interessa alla questione per impedire che ci sia qualcuno che guarda le persone tatuate e dice oggi la gente afferma la propria individualità. Capito? Certo. C'è un signore che quando addosso una cosa vuole che non affermi la sua individualità. Ma il problema è di... Sì, ma come? Perché è così? Abbiamo già fatto le domande, no? L'indelebile nel liquido, la scelta di certe immagini, insomma, tutto quello che abbiamo detto. Tentiamo di rispondere in maniera il più ragionevole possibile. Dunque, volevo farvi, richiamarvi l'antica Araldica. Non so se vi ricordate l'Araldica, forse avete visto. Nell'Araldica erano i nobili che si mettevano, come sapete, dei blasoni addosso. Se guardate i vecchi ritratti araldici, si somigliano tutti di faccia. Perché? Perché non c'è bisogno di riconoscere di faccia. Sono quelli di quella famiglia lì che portano quel blasone lì. Dico bene. Guardate com'è interessante. Abbiamo abbandonato il selfie per disegnarci una specie di Araldica personale, scrivendoci sul corpo quello che conta per noi, che sono i nostri simboli, scelti da noi come propri simboli, che non contano per il fatto che ho quella faccia lì, ma perché mi sono disegnato quella cosa lì. Guardate che ho un amico che ha fatto una fotografia di un signore calvo che si era fatto tatuare sulla testa un tegamino con un uovo. Allora, perché? Ma perché il problema della singolarizzazione non si fa più attraverso l'individualizzazione del selfie, ma attraverso la costruzione di un sigillo. Guardate, quando rileggete l'Antica Araldica sapete che i bastardi uscivano senza blasone sullo scudo perché si guadagnavano il blasone con la propria impresa. Oggi la gente si scrive sulla pelle quello che vorrebbe essere, quello che gli ingusta, quello che gli interessa, ma anche quello che gli disgusta. Cioè, in qualche misura, siamo in un momento araldico, altro che post. Ha ragione Eco, stiamo a passo di gambero, stiamo tornando indietro a strategie di comunicazione, di significazione, che ormai convivono con le altre. Do un secondo esempio. Qui non posso farvi vedere il problema della cancellazione, perché in una società araldica la gente non si cancellava, mentre oggi la gente cancella. Ma ci sono dei programmi televisivi, oggi, se aprite, che vi spiegano com'è che ci si cancella un tatuaggio. Ho alcune immagini, ma non ho tempo di farvele vedere. Allora, torniamo. Ci sono problemi di rituali. La gente incontra una persona, gli nasce il figlio, hanno avuto un incidente, se lo mettono sul corpo. Cioè, all'improvviso, ci sono dei piccoli riti di iniziazione. Ritorno a una certa ritualità. Siccome non li volete chiamare araldici, perché non abbiamo il problema, ormai non sappiamo più che cos'è un blasone, chiamiamoli dei totem. La gente si mette addosso dei totem protettori e lo fa con un certo tipo di riti. Totem. Riti. E si presenta con un corpo testo che è come una mitologia personale. Che cos'è il mito? Qualcuno l'ha detto in maniera memorabile. Parlava del mito e dell'ideologia. Diceva, un mito è la rappresentazione di una soluzione immaginaria a un problema reale. I problemi sono reali. Le soluzioni sono immaginarie. Che cosa ha come problema reale? Quello che si è messo questa soluzione immaginaria sul corpo? Ebbene, psicanalisi e sociologia, antropologia e economia devono dare la risposta che pone il semiologo. grazie.